Si è corsa a Torino Just a Woman AM, marcia di 6 km organizzata per la festa della donna dal sistema universitario torinese dal CUS Torino, con la partecipazione del Consiglio regionale del Piemonte. L'iniziativa è che in questa terza edizione ha raccolto quasi 10.000 iscrizioni, finanzia la ricerca contro il cancro e ha l'obiettivo di comunicare i valori formativi dello sport e sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sui temi della violenza di genere. Grazie